Barbara dei Santi di Uomini e Donne a cena con la ex di Giorgio Manetti Barbara dei Santi di Uomini e Donne a cena con la ex di Giorgio Manetti Nonostante non faccia più parte di Uomini e Donne, il programma pomeridiano dedicato all'amore di Maria De Filippi, Barbara dei Santi continua ancora a far parlare di sé. Anche questa volta, come le precedenti, quando si parla di lei inevitabilmente spunta fuori il nome di Gemma. Stavolta in maniera indiretta. Barbara dei Santi è andata a cena con Maria Grazia Dellaglio, ex fidanzata di Giorgio Manetti, il famoso gabbiano della nostra amata Gemma. Le vite dei protagonisti di Uomini e Donne si intrecciano che è una meraviglia, nemmeno le trame di Beautiful riescono a fare tanto. Ricapitoliamo brevemente la situazione, Giorgio Manetti chiede a Barbara di uscire, lei rifiuta. Il gabbiano si fidanzata con Gemma. Lei lo molla e lui frequenta Maria Grazia. Ora Maria Grazia va a cena con Barbara. Gli autori delle SOP potrebbero prendere spunto per realizzare interessanti puntate. Non c'è che dire. Giorgio Manetti, la sua ex di Uomini e Donne esce con Barbara dei Santi foto. Nelle scorse puntate della SOP di Uomini e Donne, Barbara dei Santi ha dichiarato, Gemma, per questo ti ho denunciato su un noto settimanale. Le due non sono mai andate d'accordo, nemmeno durante il corso del programma che ha donato loro la popolarità. L'ex di Giorgio Manetti, la nostra amata Gemma, lanciò perfino un bicchiere d'acqua alla povera Barbara dei Santi, che ovviamente non reagì bene di fronte a tale gesto. Il tutto avvenne durante la registrazione di una puntata di Uomini e Donne del Trono Over. Come la prenderà ora la Galgani la scoperta che Barbara e Maria Grazia, un'altra ex del gabbiano da aggiungere alla lista, sono diventate amiche e vanno anche a cena insieme. Giorgio Manetti, ti diamo un consiglio, salvati finché sei in tempo. Giorgio Manetti, ti diamo un consiglio, salvati finché sei in tempo.